Ciao sono Bogdan, oggi andiamo a condividere una lettura che mi è piaciuta un sacco, ossia l'autobiografia di Woody Smith. Ma prima, se sei nuovo sul canale io parlo di business, investimenti, letture interessanti, abitudini produttive eccetera, sto creando la più grande rete di network d'Italia partendo da zero in maniera digitale. Qua sotto lascio tutti i link e via dicendo. Ora, perché condivido le letture che faccio, soprattutto di personaggi noti di successo eccetera? A me piace leggere questi tipi di libri perché voglio delle conferme e solitamente le trovo di quello che pensano le persone di successo. Ora, la definizione di successo non esiste secondo me. Nel senso che ogni persona ha in mente un'idea di successo. C'è chi vede il successo come Lamborghini, Dubai, piscine, ok? C'è chi vede il successo come domani non metto la sveglia, faccio quello che voglio. Sono dinamiche diverse, secondo me non c'è una definizione corretta di successo. Per ogni persona la definizione è diversa, però tendenzialmente ci sono delle icone come questa che risultano lampanti accostarle alla parola successo. Quindi andrò a vedere, andrò ad analizzare qualche concetto, qualche curiosità, qualche azione legata alla mentalità delle persone di successo e vediamo di farne un po' nostre e vedere effettivamente se ci possono essere utili dei ragionamenti che fanno delle persone di questo calibro nella nostra vita quotidiana. Allora, quindi Autobiografie di Will Smith. Il libro inizia con una cosa molto interessante, ossia il padre, che non è la solita storia del povero che ce la fa, perché lui tendenzialmente era abbastanza, stava abbastanza bene economicamente, il padre aveva una piccola azienda di refrigeranti, frigoriferi eccetera, non mi ricordo di preciso. Quindi stava abbastanza bene economicamente, butta giù una parete nel negozio dove lavorava e lui e suo fratello, suo cugino, non ricordo, gli dice di rifare, ricostruire l'intero muro, che era un muro enorme di 6-7 metri, per un bambino di 8-9 anni insomma era una cosa un po' complicata. Il padre, e il libro inizia subito così, gli fa vedere come mettere un singolo mattone in maniera perfetta e il suo ragionamento è questo, che se io riesco a mettere un mattone nella maniera più perfetta che posso metterlo e riesco a mettere migliaia di mattoni uno dietro l'altro, all'inizio non vedrò nulla, alla fine vedrò un muro di mattoni perfetto. E questa metafora lui la utilizza per tutti i progetti della sua vita, cinematografici, legati alla musica eccetera. Quindi lui dice ogni cosa che ho fatto nella vita è stato mettere un mattone alla volta per costruire una grandissima carriera. Quindi, prima cosa del mattone mi è piaciuta tantissimo, era forse in prima pagina. Il padre ha avuto un'influenza positiva e negativa nella sua infanzia. Uno positiva perché il padre ha fatto una piccola parentesi nella vita in marino, o comunque nell'esercito e gli ha dato un'etica del lavoro e delle regole estrema. Quindi se gli diceva che alle 6 doveva essere giù a far colazione, lui alle 6 in punto aveva il letto già fatto, era giù a far colazione eccetera. Se alle 6 e 2 non eri a tavola, il padre lo prendeva e lo lanciava dalla finestra, come è successo poi a suo fratello. Quindi etica del lavoro, rispetto assoluto per le regole. La parte negativa del padre che era un ubriacone e ogni tanto, molto spesso, in realtà menava un po' tutti quanti, soprattutto la madre. Lui, se è sempre considerato un codardo, perché non è mai riuscito a tenere testa al padre in quelle situazioni, però da bambino come può una persona pensarci. Una cosa che non sapevo è che Will Smith è iniziato come cantante. Io ricordo negli anni 90 Will, principe di Bel Air, e l'ho conosciuto da lì, pensavo fosse nato lì. Invece lui è iniziato come cantante, quindi quando era molto piccolo, passava giornate intere a scrivere rime, era un rapper, il rapper del quartiere, nella zona di Filadelfia, è diventato nella zona di Filadelfia uno dei più bravi rapper, anche se era molto giovane. E questa cosa non la sapevo, e non sapevo che lui, quando poi ha iniziato con la sua carriera da rapper, all'inizio era un sogno, poi si è concretizzato tutto quanto, ha iniziato a lavorare con un DJ molto bravo che tutti reputavano il DJ migliore al mondo. Lui ha iniziato facendo carriera, poi il DJ era lo stesso che ha accompagnato anche nella serie tv del Will, il principe di Bel Air, era il ragazzo che veniva lanciato fuori dalla finestra, dallo zio Fil, praticamente ogni puntata. Insieme a questo ragazzo cominciano a registrare le loro prime canzoni, i loro primi dischi, tramite conoscenze riescono a sfondare nel mondo della musica, e sono stati i primi a ricevere un Grammy nella scena rap mondiale. Anche se poi non l'hanno fatto vedere perché non lo facevano vedere in tv, e lui infatti non ci è andato a ritirare il premio, però sono stati i primi di fatto ad avere successo e a ricevere un Grammy in quell'ambito. Una cosa che lui ripete spesso e volentieri nel libro è che lui non sarebbe stato la persona, o comunque non avrebbe avuto il successo se non si fosse circondato da persone con una mentalità giusta e di successo a loro volta. Quindi anche questo DJ, lui era ossessionato da quello che faceva, faceva dei pezzi molto belli, io non ci capisco niente di rap, però a quanto dice lui era uno dei DJ più bravi del mondo ed era ossessionato da quello che faceva, passava notte e giorno a fare solo quello e lo stesso Will Smith passava tantissimo tempo dedicare e a scrivere appunto le rime e a cercare nuovi ritmi, diciamo così. Quindi le abitudini che ha avuto lui, lo dice spesso, che i ragazzi della sua età prendevano, uscivano, imbrattavano i muri, facevano solite robe da ghetto, diciamo, diciamo, quindi piccole rapine, fruttarelli, scherzi in giro, lui stava a casa dalla mattina alla sera a scrivere rime e questo secondo me fa tutta la differenza del mondo. Dopo è facile vedere le cose buone e dice vabbè. Un'altra situazione interessante è che lui, una volta che raggiunge successo col rap, ovviamente erano gli anni in cui cominciavano ad arrivare i soldi, quindi lui diventa milionario, molto giovane, cosa interessante, perde tutto. Successo molte volte a persone che guadagnano patrimoni molto molto importanti in breve tempo, quindi riceve, adesso non ricordo se 1, 2, 3, 4 milioni di dollari li finisce tutti, brasati completamente, perché non li sapeva gestire, pensava fossero infiniti, spendi di qua, porta gli amici con l'aeroplano a fare shopping, queste situazioni qua. Sono temi che possiamo rivedere anche in versioni più comuni quando le persone vincono, ad esempio, la lotterie, la lotto, eccetera. Da statistica, non lo dico io, lo dicono le statistiche, le persone che ottengono delle somme molto grandi in breve tempo, all'improvviso, tendenzialmente entro 5 anni perdono tutto, o comunque hanno molti meno soldi di quando li hanno ricevuti. Perché il ragionamento loro qual è? O meglio, non c'è ragionamento, nel senso compro una casa lì, una casa là, sistemo qualcuno, cambio la macchina, alzo il tenore di vita e i soldi sono belli che finiti. Ma come fai con i milioni? Non vi preoccupate che si fa. L'idea ideale sarebbe, se ricevo 1 milione, 2 milioni, 3 milioni, 5 milioni, tra 5 anni ne devo avere 50, non ne devo avere 500 mila. Però vabbè. È il problema di chi appunto riceve molti soldi in poco tempo, all'improvviso, e sono soldi appunto arrivati così dal cielo e non generati dal proprio ingegno, dalle proprie azioni, solitamente. Poi ovviamente lui, da questa situazione in cui era il verde totale, conti in rosso, conosce un tizio ad Hollywood, si improvvisa attore, quello che di fatto non era, però lui dice sì sì so recitare, si butta in questa avventura, piace a tutti quanti, inizia poi la scalata del principe di Bel Air, quindi lui si riprende anche economicamente. Una cosa molto interessante è che lui assieme al suo manager, ai tempi, anche lui molto ossessionato da queste cose, quindi l'ambiente che ha frequentato è stato davvero potenziante per lui, tutto il suo gruppo è stato davvero fondamentale per il suo successo. È un giorno che si sono messi a tavolino, quando lui voleva iniziare a girare per il cinema, per il grande schermo, ha deciso a tavolino quali e quali no film accettare, in base alla trama, sceneggiatura, gli attori che ci lavoravano, il regista che ci lavorava, hanno fatto proprio una scaletta di caratteristiche che i film dovevano avere per avere successo. Lui ha scelto nella maniera migliore possibile i film e lui ha fatto, a livello di singolo attore, l'escalation più grande della storia di Hollywood, partendo da Independence Day, Man in Black, Io sono leggenda, tutti quanti, fino a quello che è adesso. Stavo leggendo l'altro giorno, dovrebbe essere una personcina da 3-400 milioni di dollari di patrimonio. Una cosa molto interessante del libro e che dice spesso sono le frasi di Jim Rohn. Jim Rohn, ho fatto un video relativo a un libro, Jim Rohn era il mentore di Tony Robbins. Tony Robbins è quello che segue a livello di mental coach, presidente degli Stati Uniti, grandi attori, eccetera. Quindi lui richiama molto spesso le frasi di Jim Rohn, ma ha fatto molto piacere sentire, leggere le cose di Jim Rohn dette anche da lui. Un'altra cosa che forse potrebbe essere collegata al fattaccio degli Oscar e che lui cerca sempre di rendere felici gli altri, anche facendo cose che di fatto non vorrebbe fare. E penso che sia andata così anche la notte degli Oscar, siccome appunto ha pioppato la cinquina al comico di turno per aver bersagliato un po' la moglie con alcune battute poco piacevoli. Lui a quel punto si è alzato, visto la moglie che era un po' così amareggiata, è andato lì a prenderlo a schiaffoni, poiché sia vero o non sia vero, sia una trovata di male, non lo so, dico quello che penso io, in base a quello che ho letto. Comunque è un libro molto bello, lui si espone molto, sembra molto onesto, anche sotto molti aspetti familiari, tutte le litigate che si fa con la moglie attuale, adesso non so se si sono lasciati o meno. Comunque un librone molto bello, pensavo fosse un'autobiografia importante, pesante, invece è molto snella, va letta tutta di un fiato, secondo me è molto molto interessante, soprattutto a livello di mentalità. Io penso e ribadisco sempre che la mentalità è quella che poi di fatto ti fa andare nel successo o nell'insuccesso qualunque definizione tu voglia dargli. Io sono Bogdan, questa era l'autobiografia di Will Smith, se ti piacciono queste letture, questi libri, fammi sapere, suggeriscimi anche delle letture che magari non ho ancora intrapreso e noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao!